Xavier uccide in Germania. Xavier è una tempesta che ha spazzato il nord del paese facendo almeno sei morti e diversi feriti gravi. Tutte le persone uccise sono state travolte da alberi sradicati dal vento mentre erano nei propri veicoli. Migliaia di chiamate, di persone terrorizzate sono arrivate agli enti di soccorso nelle regioni del nord-est, mentre alla popolazione è stato consigliato di restare in casa. La tempesta ha anche causato disagi al traffico stradale e ferroviario a causa della caduta di piante e rami. Il conto dei danni della prima importante tempesta autunnale, secondo le prime stime, sarà nell'ordine dei milioni di euro, ma soprattutto è il bilancio delle vittime che non mancherà di suscitare polemiche. Disagi per chi vola, gli aeroporti berlinesi di Tegel e Schönefeld sono rimasti chiusi per ore vista l'impossibilità di decollare e atterrare. E qualcuno la prende con filosofia e fa scorta di birra. Non c'è nulla da fare, dice quest'uomo, se non attendere oppressore la birra, ghiaccio e la vita continua.